Come già annunciato qualche giorno fa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via libera alle procedure di espropriazione per la pubblica utilità delle aree che saranno attraversate dall'autostrada Ragusa-Catania. Ed ora è in piena operatività la parte esecutiva della procedura per la realizzazione dell'infrastruttura. Presente nel sito della Società Autostrada Ragusa-Catania la documentazione del progetto e le fasi genitinere degli avvisi, gli avvi, delle pubblicazioni e delle procedure di espletamento e definizione della conferenza di servizio con il restante iter realizzativo. Uno strumento importante che rende visibile a tutti la messa in opera del lavoro svolto costantemente. Attraverso il sito, già da giorni online, si evince che saranno presenti 8 lotto funzionali con il piano di cantilizzazione e il cronoprogramma di dettaglio del cantiere. Il progetto definitivo apporta alcune ottimizzazioni, quali 11 viadotti, una galleria vanaturale, un manufatto di attraversamento ferroviario sulla linea Siracusa-Catania. Inoltre sono previsti 10 svincoli, oltre l'interconnessione di testa con l'autostrada Siracusa-Catania. Il numero dei viadotti è passato da 19 a 11, eliminati alcuni tratti in galleria che presentavano complessità realizzative e difficoltà di inserimento ambientale. Per quanto riguarda la viabilità secondaria, il progetto definitivo ha contemplato la rimodulazione e la riconnessione della viabilità locale, ottimizzando le intersezioni di strade vicinali. La Sarce SRL assicura che continuerà a monitorare la procedura per verificare tempi e modi del suo regolare sviluppo e delle risoluzioni di nodi e problematiche nell'interesse della collettività.